E la vigilia di Cavese Avellino si gioca domani sera, lo stadio Simonetta Lamberti alle 20.45, uno stadio Lamberti che si preannuncia sold out con i 500 tifosi bianco-verdi, la curva esaurita dei tifosi blufoncè. Allora, mister Pazienza stamattina ha parlato in conferenza stampa, ha annunciato che Liotti e Cancellieri sono recuperati, Frascatore è recuperato soltanto ieri, quindi andrà in ballottaggio con Enrici in difesa nel 3-5-2, con Gianna Rilli, Cancellotti, Armellino e appunto ballottaggio Enrici, Frascatore in difesa, d'ausilio giocherà a destra, Liotti a sinistra, centrocampo con Palmiero Sunas dovrebbe essere confermato Michele Rocca, poi dubbio in attacco, un ballottaggio tra Gori e Vano, mentre Redan dovrebbe conservare il posto da titolare, però il ballottaggio con Raffaele Russo lo teniamo e come? Ha parlato appunto mister Michele Pazienza, ha presentato la gara, allora andiamo ad ascoltare. È stata una settimana intensa, come ha appena detto lei, è stata una settimana non semplice, però i ragazzi sono riusciti a lavorare nel miglior modo possibile, è stata una settimana diversa dalle altre anche per la scelta di cercare di isolarli e di lavorare con un massimo della serenità, con più serenità e arriviamo con qualche giocatore recuperato, Liotti l'abbiamo recuperato all'inizio della settimana, ieri abbiamo recuperato Cancellieri, purtroppo abbiamo ancora fuori qualche altro giocatore e tra questi c'è sicuramente Patierno che ne avrà ancora per un po', Rigione credo possa rientrare la settimana prossima, Toscano è ancora fuori e ne è ancora per un paio di settimane, De Cristoforo è squalificato, vabbè questo lo sapete, Tribuzzi ci vorrà ancora credo 12-15 giorni, e per il frascatore l'abbiamo recuperato ieri, per il resto siamo a posto. Questo sport meraviglioso, bellissimo, affascinante esiste perché ci sono i tifosi, motivo per cui i tifosi hanno il diritto di esprimere la loro opinione, il proprio disappunto, soprattutto in questo momento dove i risultati non stanno arrivando e noi come ci arriviamo, quando lei mi dice come ci arriva la squadra, come ci arriviamo noi, noi ci dobbiamo arrivare con la voglia di cambiare questa situazione, questa situazione che è sicuramente difficile, delicata, e sicuramente nella gara di domani c'è l'idea di cambiare qualche interprete, sicuramente sì, un po' dovuto anche alla situazione fisica, un po' dovuto anche a delle scelte, e l'idea di cambiare qualche interprete c'è sicuramente.